Samu è stato eliminato da Amici 22 dopo aver perso il ballottaggio finale contro Wax. Maria De Filippi ha annunciato il verdetto ai concorrenti e Samu ha espresso la sua gratitudine per l'esperienza e la crescita maturata. Questa settimana, per la prima volta, c'è stata una sola eliminazione e Samu ha riconosciuto l'importanza di questo evento nella sua vita. L'eliminazione di Samu da Amici 22 ha segnato la fine del suo percorso nello show, che ha definito l'esperienza più importante della sua vita. Nonostante la sua delusione, Samu ha imparato da tutti nello show e li ha ringraziati per il supporto e la pazienza con lui durante il suo tempo lì. Mentre il suo viaggio su Amici è giunto al termine, Samu ha espresso la sua determinazione a continuare a seguire i suoi sogni.